L'argomento che tratteremo oggi sarà quello del menu di gioco, per poi passare all'interno del gioco e andare a spiegare alcune cose non dette nel precedente episodio. Per chi non avesse visto il precedente episodio ricordo che in descrizione c'è il link a questo episodio. Dal menu si va tramite il pulsante gioca posizionato in alto al centro. Come vedete c'è il pvp, il cobs vzia, la personalizzata e il tutorial. E solendo il tutorial, che è una cosa che dovreste fare all'inizio, il pvp è la schermata che utilizzerete più delle volte. Qui abbiamo la classica, Alam e l'ascensione. L'ascensione è un gioco opzionale uscito da poco. L'aram è una modalità 5v5 in una mappa in cui si ha una sola lane, una sola linea in cui si combatte sempre 5 contro 5 in continuazione. Ci sono solo due torri e le due che proteggono il nexus, quindi è come se fosse una sola mid lane ed è una modalità extra, diciamo, che dura molto meno di una partita normale e che si fa per divertimento. E poi abbiamo la classica, dove c'è la 3v3 o la 5v5. Quella più classica è la 5v5. Della 5v5 abbiamo una partita normale segreta e normale draft. Che differenza c'è? La normale segreta si va 5 contro 5 e diciamo che si picca il champ tutti insieme e il ruolo si decide in base a chi scrive prima in chat quello che vuole fare. Generalmente si rispetta questa regola, però siccome niente è scritto a volte ci sono anche dei personaggi abbastanza brutti che piccano quello che vogliono a prescindere da quello che magari hanno detto gli altri. Quindi se io ho detto prima mid magari vogliono andare loro mid e prendono subito il champ che vogliono e vanno mid. Quindi è un po' una modalità scomoda che però se volete fare un game veloce è più comoda perché si va subito in game. Inoltre in questa modalità potrebbe capitare che dall'altra parte hanno lo stesso champ che avete piccato voi, cioè nel senso si possono avere uguali champ in un team e nell'altro. Nella normale draft invece voi scegliete il vostro ruolo prima di entrare in game, il vostro ruolo primario e il vostro secondario e vi uscirà sicuramente uno di quei due dando priorità a quello primario. Qui ci saranno anche i bann, cioè ogni squadra potrà bannare 3 champ e non potete incontrare lo stesso champ contro ovviamente. Però questa modalità viene sbloccata dal livello 10 in poi, prima del livello 10 non potete parteciparvi. Infine ci sono le classificate che si sbloccano dal livello 30 in poi, che è il livello massimo, dal livello 30 non salirete più di livello, sarà il vostro livello massimo e potete andare in classificata, cioè una modalità in cui ci sono delle partite classificate e dove potete salire di lega. Le leghe sono rispettivamente bronzo, silver, oro, platino, diamond, master tier e challenger. Dal gold in su, dall'oro in su, si prende un premio a fine stagione che in genere è una skin di un campione che viene nominato il campione dell'anno e esce una skin leggendaria che potete avere solo se chiudete la season dal gold in su. Per quanto riguarda il menu qui in alto, qui abbiamo due tipologie di punti, riot points e gli LP. Gli LP si ottengono semplicemente giocando, sia che si vince che si perde, ovviamente perdendo si ne prendono di meno, vincendo se ne prendono di più. Se ne prendono di più tanto più dura la partita, cioè più lunga e più si ne prendono. Inoltre c'è la vittoria del giorno che vi dà punti doppi e la potete fare una volta al giorno. Gli LP sono quelli comprabili. Qui in questo menu si va al negozio, nel negozio ci sono diverse schermate delle cose acquistabili, tra cui in realtà potreste acquistare campioni sia con LP, come vedete il costo è in LP e in RP, ovviamente quello in RP è minore ma perché quelli sono quelli comprabili, ma i champ si possono tranquillamente comprare in LP. Gli aspetti invece delle skin si possono comprare solo in RP, sono gli aspetti che modificano semplicemente l'aspetto del champ e non danno vantaggi nel gioco. E poi c'è le rune e i boost. I boost sono solo per quanto riguarda chi sta sotto gli allo 30 per salire più rapidamente di livello, se non avete voglia di perdere troppo tempo, ma io li sconsiglio perché comunque fate esperienza. E le rune invece c'è un discorso a parte che adesso andiamo a vedere e con cost non si possono comprare gli RP ma solo con gli LP che si accumulano in gioco e sono di diverso tipo. Per quanto riguarda gli accessori poi faremo un discorso a parte, stessa cosa per i bundle che in genere sono dei pacchetti di skin che vengono venduti a un prezzo scontato. Questa parte del cristallo è una parte che è stata introdotta da poco nel gioco e andremo adesso a spiegarla. In pratica cosa succede? Succede che voi avete a disposizione ogni tot la possibilità di trovare in una certa partita un baule o un frammento di chiave. Questo baule contiene una skin che voi potreste sbloccare. Per aprire un baule ci sono bisogno di tre frammenti di chiave che fusi insieme danno una chiave per poter aprire un baule. Avete a disposizione un baule a settimana fino a accumularne quattro. Si trovano casualmente ma c'è bisogno che nella vostra squadra uno dei membri prendi almeno S-. Soprattutto se avete preso il baule questa season con un certo champ non lo riprenderete con quel champ ma dovete giocare un altro champ per prenderlo. I frammenti sono casuali e capitano anche in Aram mentre i baule in Aram non possono capitare. Una volta che avete trovato la skin come questa per esempio di Ashe cliccando potrete vedere il prezzo per comprarla che è di 220 e senza arancione che servono proprio per rendere permanenti le skin oppure potete disincantarle e guadagnare altri frammenti arancioni in maniera tale che quando poi uscirà una skin che voi volete ne avete tanti abbastanza per sbloccarle. Oppure all'accumulare di tre skin che magari non vi piacciono potete fare cambia e cambiare quelle tre skin in una casuale permanente. Le essenze blu servono per sbloccare invece i frammenti di campioni come questo perché nei bauli possono capitarvi anche i frammenti di campione. Le essenze blu servono inoltre per potenziare il livello degli eroi oltre il livello 5. Per capire quanto sto dicendo come vedete questo è un eroe ed è Eni ed è livello 1. Il livello 1 è appena iniziato. Mano a mano che giocate salite di livello. Fino al livello 5 basta giocare. Accumulate un tot di punti che se non sbaglio è intorno ai 30.000 salite col champ al livello 5. Dopodiché per il livello 6 e 7 dovete sbloccare dei gettoni. Dei gettoni che si sbloccano come? Prendendo per il livello 6 dovete prendere due gettoni prendendo almeno due volte S-. Ogni volta che prendete S- vi da un gettone. Con due gettoni 500 essenze blu potete sbloccare la maestria livello 6 di quel campione. Per la maestria livello 7 invece c'è bisogno di tre gettoni che prendete prendendo S- almeno S o S più col champ e poi altre 600 essenze blu per poter sbloccare la maestria livello 7. Inoltre nei bauli potete trovare anche delle icone o dei lumi. Per quanto riguarda le icone verranno sbloccate automaticamente e non potete rifondarle. Mentre i lumi potreste disincantarli e invece o sbloccarli oppure disincantarli potete ottenere sempre senza arancione esattamente come fate con gli aspetti che non vi piacciono. Per quanto riguarda questo menu qui trovate il vostro profilo con i vostri campioni migliori quelli di livello più alto, il vostro rank se state giocando in classificata sia nel 3v3 che in quella squadra che nella classificata singolo perché c'è la solo Q, quella 5 contro 5 e la 3v3 ci sono le classificate di tutte queste tre categorie, le classiche e gli Aram sia le vittorie che le uccisioni eccetera eccetera. Le leghe indicano le leghe disponibili, le partite e tutte le partite che avete fatto, i campioni, i campioni che avete e quelli che potete sbloccare ancora e potete ordinarli con questo menu come volete, le rune, le maestrie, gli incantesimi che come ho detto nello scorso episodio sono molteplici e si sbloccano mano a mano che si sale di livello e il set di oggetti dove troverete tutti gli oggetti del gioco e dove potete organizzare pagine dedicate a certi champ dove mettete tutti gli item che vi servono perché magari voi volete fare la pagina di un certo champ dove mettete tutti gli item che in genere volete comprare con quel champ così da non doverli ogni volta cercare e averli subito a disposizione ogni qual volta si gioca quel champ nel negozio. Per quanto riguarda le rune ragazzi ci sono pagine di rune che sbloccate appena giocate, praticamente all'inizio avete due pagine di rune e poi potete comprarle o al costo di 6300 lp per una pagina oppure ogni tanto due volte l'anno esce un bundle, un periodo in cui c'è lo sconto in cui a 6300 vi danno due pagine di rune. Nelle pagine di rune avete 30 blocchi che sbloccate uno ogni livello all'ello 30 avete a disposizione tutti i blocchi di ogni pagina di rune, le pagine di rune sono al massimo 20, ogni pagina è in base al ruolo che dovete fare con quel determinato champ, ci sono le essenze rosse che sono i marchi che servono per dare per esempio velocità d'attacco, penetrazione magina o attacco fisico, le gialle sono invece la vita, l'armor e le lui invece sono la resistenza magica, il potere magico, mentre poi ci sono le quintessenze che sono gli ultimi tre livelli che sono tre cerchi grandi qui, qui e qui, che adesso non vedete perché con questo account sto a livello 5, che danno svariate cose e sono le rune che costano di più. Come ho già visto ci sta la sezione apposta nel negozio per comprarle e poter quindi sviluppare delle pagine di rune che vi danno dei vantaggi nel gioco perché aumentano le vostre statistiche di base. Per quanto riguarda invece le maestrie anche se aumentano le statistiche di base, anche qui potete mettere 20 punti in ogni slot in base al livello che state, ne sbloccate uno ogni livello, a livello 30 potete riempirla come volete con il numero massimo di slot che è 30 e anche qui c'è la pagina ferocia che è l'attacco, l'astuzia che diciamo che è il potere magico barra l'utilities e la risolutezza che è il ramo, diciamo, la sezione della difesa, del recupero vita e quello che sia e qui in base al champ potete fare delle pagine di maestria adeguate in base al ruolo e al champ che usate e trovate facilmente su internet, su diversi siti. Tornando al menu non abbiamo parlato del COPSBsIA che praticamente è sempre il 5v5 o il 3v3 però contro i bot, cioè state con persone vere ma contro il computer e c'è il livello introduzione principante intermedio, mentre nella personalizzata la stessa identica cosa ma state anche con i bot, quindi con voi ci sono bot e state contro bot e queste partite potete terminarle quando volete senza rischiare ban o cose varie, nel senso sono partite di prova che voi usate per provare i champ e dalle quali uscite quando volete. Passando al gioco, oggi parleremo della sezione delle comunicazioni con il vostro team o con gli avversari. Per parlare al vostro team basterà premere invio, come vedete apparirà la chat e in chat noi potremo scrivere per esempio ciao. Ripremendo invio questo messaggio verrà inviato ai vostri alleati. Se volete scrivere invece ai vostri avversari, cioè un messaggio che appare sia ai vostri alleati che ai vostri avversari, basterà tenere premuto shift e ripremere invio e come vedete apparirà la slash all e se io riscrivo ciao e lo rinvio, questo messaggio verrà inviato a tutti. Per quanto riguarda invece la segnalazione, questa si può fare tranquillamente con G, premendo G in un punto e poi premendo il tasto sinistro tenendo premuto G, potete pingare in qualsiasi punto della mappa. Se io voglio pingare in un'area della mappa che non è questa che mi circonda, basterà pingare anche sulla mappa in basso a destra. Ovviamente questi sono ping, semplici ping, se vogliamo specificare il ping basterà tenere premuto G, tenere premuto il tasto sinistro e poi muoversi col mouse per scegliere il segnale da inviare. Segnale di nemico disperso, segnale di pericolo, segnale di sto arrivando con il vostro nome che compare sotto la freccetta o il segnale di assistimi. La comunicazione durante una partita è molto importante, sia per segnalare che magari il vostro nemico di lane manca e può essere che sta andando in qualche altra parte della mappa ad assaltare i vostri alleati, sia per segnalare pericolo perché avete visto qualcosa che magari il vostro amico non ha visto, sia per segnalare che state arrivando a un amico se state cercando di dargli una mano in maniera tale che lui si muova in tempo, oppure se avete bisogno di aiuto. Per quanto riguarda invece il tasto tab, con il tasto tab appariranno le statistiche di gioco, i vostri avversari e i vostri alleati. Potete ordinare i vostri avversari nell'ordine che volete e qui potete visualizzare gli oggetti che hanno comprato, le ward che hanno, il loro score, i minion che hanno farmato e le summoner che hanno, nonché da questa schermata potete anche mutare sia i vostri avversari che i vostri alleati, nel senso che non vi appariranno i messaggi che loro mandano. I motivi possono essere svariati, tra cui per esempio il flame. Per flame si intende quando un avversario vi sta insultando o comunque sta insultando il vostro team. Non volete sentirlo perché vi distrae dal gioco e quindi lo mutate e i suoi messaggi non vi compariranno in chat. Inoltre in alto è visualizzabile anche le torri che avete preso voi e i vostri avversari, il rapporto delle kill e i draghi che avete conquistato. Per questo episodio è tutto, al prossimo episodio in cui parleremo della giungla, dei buff presenti all'interno della giungla, dei mostri e del drago e del barone Nashor e anche del ruolo del jungler soprattutto all'inizio del gioco. Ricordate di mettere un like, un commento e iscrivervi al canale. Da Lec è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto.